Musica Sapevate che a Castello del Matese c'è un'usanza che risale ai potestà, ovvero al periodo fascista, che il giorno del Santo Patrono il sindaco viene accompagnato con la banda musicale dal comune alla chiesa? Infatti nel piccolo comune anche oggi il rito si è ripetuto con la festa di Sant'Antonio, che è il Santo Patrono della piccola cittadina. Stamattina il sindaco, accompagnato dai vigili urbani in uniforme, con tanto di confalone e la banda musicale, hanno percorso il tratto della cittadina dalla casa municipale alla chiesa Santa Croce. Questa usanza iniziò, secondo il racconto di anziani, dalla famiglia Antonio Gaetani, potestà dell'epoca, poi i catarcio ed infine i fidanza. Oggi i potestà non ci sono più sulla carta, ma l'usanza è ancora viva come si vede dalle immagini. Da Castello del Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it